13 ottobre oggi è martedì buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati carissimi telespettatori sul canale 17 per dare un'occhiata ai giornali lo faremo tra un istante cominciamo dal santo di oggi oggi è la beata alessandrina maria da costa il sole è sorto alle 7 e 20 tramonterà le 6 e mezzo di stasera allora il tempo guardiamo il satellite questa è la fotografia l'animazione che si conclude alle 7 di questa mattina parte alle 2 di notte e si conclude alle 7 sono tante immagini che poi messi insieme fanno come cartoni animati una volta diventa animato si anima e quindi ci dà la possibilità di vedere la traiettoria delle nuvole che cosa succederà infatti se andiamo più sotto poi andiamo a vedere invece l'immagine della fotografia eccole qua le nuvole che scorrono che scorrono verso il mare questa è la fotografia del nostro osservatorio meteorologico accessibile come dico sempre dalla pagina del nostro sito internet occhio alla notizia punto it 16 gradi e 8 questa è la temperatura oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse più insistenti nel pomeriggio le temperature sono in aumento in particolare nei valori minimi i venti sono moderati il mare sarà mosso questo per la giornata di oggi per domani mercoledì 14 ottobre avremo cielo nuvoloso in particolare in particolare nelle zone dell'entroterra con rovescio temporale diffusi nelle zone interne con fenomeni anche intensi sparsi lungo la fascia collinare e anche quella costiera poi vedete da soli stando all'iconografia all'icone che la protezione civile ha inserito nella mappa della regione marche pare che l'unica parte della costa che verrà colpita dal maltempo in particolare dalla pioggia sarà ancona insomma più o meno però temperature lieve aumento le minime i venti di brezza tese il mare sarà mosso per giovedì 15 ottobre tempo peggiora ancora rispetto mercoledì con temporali nelle zone interne e precipitazioni rovesci nella mattinata e maggiormente diffusi nel pomeriggio lungo lungo la costa eventi di brezza tesa il mare sarà mosso il tempo resterà variabile per l'ingresso in successione di perturbazioni atlantiche quindi non c'è da attendersi granché anche nei prossimi giorni quindi anche dopo la giornata di giovedì allora ieri si è discusso molto in particolare sui social network della gestione dell'ordine pubblico il caos che si è verificato subito dopo l'incontro di calcio allo stadio Mancini tra la San Benedettese e l'Alma Juventus Fano dove i fanesi l'Alma Juventus ha perso 4-1 questo ormai lo sappiamo tutti oggi sui giornali si parla in particolare sul resto del carino la pagina di Fano si parla appunto del caos allo stadio la rabbia di tifosi e di residenti Fano Samba raffica di proteste dopo la gestione dell'ordine pubblico una ragazza è stata manganellata ci sono diverse procedure ci hanno fatto passare i tifosi ospiti davanti alla faccia da altre parti esci e sali invece sull'autobus questo è quello che succede un po' in tutti gli stadi anche noi quando andiamo a fare le partite solitamente anche nel campionato di serie D insomma più o meno la prassi è questa con parcheggi adeguati messi in un certo punto nello stadio dove ecco non c'è nessun tipo di contatto qui in realtà sono stati fatti davvero sfilare davanti e quindi sfiorare le due tifoserie sempre sul caos allo stadio gli errori non evitati per evitare pericoli bastava un megafono scrive il giornale questa mattina poi la cronaca un operaio della profil glass è stato fulminato da un infarto mentre lavorava in fonderia un operaio di origini napoletane ha perso la vita mentre stava lavorando in fonderia non si tratta di un incidente sul lavoro ma di un malore purtroppo fatale e si chiamava Salvatore Ferrara avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 26 ottobre poi i ladri i ladri nel bar appena inaugurato a Lucrezia furto domenica scorsa al Pandora 2 bar di Lucrezia i ladri sono fuggiti con 300 euro dalla cassa sull'ospedale unico l'intervista l'intervista sull'ospedale unico nessuno ci imponga nulla serve lungimiranza non il muro contro muro il sindaco il confronto con il governatore delle Marche Luca Ceriscioli il caso Santa Croce il processo di integrazione con Pesaro si è fermato attendiamo adesso segnali forti lo faranno a muraglia seri come lo difende dice il centrodestra dicono il centrodestra ai 5 stelle c'è Davide del Vecchio in questa fotografia con Aramis Garbatini quali proposte prepara Fano e è d'accordo sui paletti messi da Ceriscioli intanto Paolini sotto parla del patto di stabilità la cifra che verrà svincolata per il comune di Fano per l'interquartieri arriveranno adesso potremmo utilizzare più che arriveranno potremmo utilizzare da questa cassa intoccabile 4 milioni di euro il dragaggio a pagina 21 sul resto del Carlino mette le ali a Marina dei Cesari accordo con cantiere di Forlì rende multinautic un centro assistenza per tutto l'Adriatico i vari nel 2016 circa 10 10 vari addirittura della categoria Gran Soleil avverranno a Fano a partire dal prossimo mese di ottobre poi premiato un documentario il documentario di Nicoletti e Lodovichetti si tratta di un documentario sul Ruanda che è stato girato dai fanesi appunto Lodovichetti e Nicoletti e si è giudicato un premio che si chiama grandi sfide all'Overtime Film Festival quindi altri fanesi sempre protagonisti in giro per il mondo poi Saltara Latari che è una tassa salasso ingiustificato il consigliere Cappellini dice da noi servizio più scarso che altrove aumento della tassa del 22 per cento in soli due anni accuse della minoranza il problema grosso l'incarico conferito a laser per 18 anni toglie ogni potere contrattuale sotto da Mondolfo le strategie della Corghi che è un'azienda mettono in ansia i sindacati ieri c'è stato un incontro con la proprietà i vertici vogliono diminuire il budget stavolta sto con Ceriscioli il sindaco di Sant'Angelo Invado sulla Fano Grosseto è speranzoso anche se è solo uno stralcio aprire la guinza ci dà orizzonti nuovi c'è Alberto Luzzi che appunto sindaco di Sant'Angelo Invado appoggia la nuova linea decisa per la Fano Grosseto le ragioni del sì cambiare il progetto e anche dimostrazione di salvaguardia ambientale a Fossombroni 5 Stelle dicono no invece alle fusioni e incorporazioni tra comuni disomogenei e quindi dicono loro si sentano prima i cittadini la pagina principale invece del resto del Carlino a centro pagina assalto al teatro record di abbonamenti a Pesaro in vendita da domani tutti i biglietti poi sullo scandalo delle ambulanze la trasmissione delle iene scatenate filmate truffe doppi viaggi e anomalie durate anni e all'asur cadono dalle nuvole un servizio che tra l'altro mi è stato riferito è stato trasmesso ieri poi sulle pagine del resto del Carlino troverete anche una pagina dedicata all'onorevole dei 5 Stelle Andrea Cecconi che mette in rete il suo stipendio con tanto di rimborsi e spese quindi stipendi rimborsi e restituzioni di Andrea Cecconi è costoso fare il deputato a Roma adesso andiamo sul Corriere Adriatico dalla pagina di Fano terremoto sul bilancio tre fronti aperti altri pesanti tagli dal governo per il 2016 buco di un milione dalla regione patto di stabilità a rischio l'ulteriore decurtazione dei fondi statali potrebbe raggiungere 2 milioni e mezzo pesa il ritardo della fusione Aset giovedì un vertice meno soldi per il Carnevale di Fano il vertice di maggioranza è convocato per giovedì 18 per giovedì scusate pomeriggio alle ore 18 nella sala del Consiglio Comunale si discuterà il bilancio di previsione 2016 e anche si discuterà del bando per il parco urbano dei passeggi che deve essere rinnovato dopo che nei mesi scorsi nessuno aveva risposto all'invito a prendere in gestione il chioschetto che appunto si trova all'interno poi Minardi il sindaco vuole un assessore giovane per il presidente uscente del Consiglio Comunale con Rosetta Fulvi al suo posto l'amministrazione si rafforza sotto operaio muore alla profinglass ma loro è durante il lavoro notturno secondo i carabinieri la causa è naturale controlli anche dell'ispettorato del lavoro aeroporto, l'ente camerale vuole uscire dalla società senza il rapido avvio dei lavori per la pista niente fondi, muri e non tecnologie il forum per i beni comuni rivolge domande e obiezioni alla regione sul progetto i 5 stelle provinciali dicono manca l'analisi dei costi e dei benefici poi sotto ancora altre notizie che potrete leggere sul quotidiano mentre da Pergola, ospedale, sono rimasta scandalizzata parla Giorgia Meloni che l'altro giorno era andata alla Fiera Nazionale del Tartufo racconta su Facebook lo scandalo dei due posti letto di terapia intensiva mai attivati il sindaco di Orciano invece il forno storico torna al suo splendore il sindaco fa il punto sui lavori pubblici al via anche il recupero del bocciodromo e poi ancora sotto la bandiera verde Eco School ai ragazzini di Mondolfo un albero per la pace, il ritmo della natura questa mattina la manifestazione con le scuole dell'infanzia e quelle primarie da Senigallia invece fuggono in tre senza saldare il conto dell'albergo rintracciati i quattro ragazzi che con la scusa di andare a fumare non pagano hamburger e bibite alla buga la pagina di Pesaro invece sempre sul Corriere giovane mamma segregata in casa tra botte e minacce finisce l'incubo per una ragazza di 25 anni abbandonata da marito, cognato e suocera si rivolge ai carabinieri e denuncia i soprusi ora la ragazza è ospitata in una struttura protetta insieme al figlio di appena un anno e mezzo poi sotto il sindaco di Pesaro Ricci spiega cosa farà con i 5 milioni che Renzi gli ha detto gli ha sbloccato dal patto di stabilità dice faremo manutenzione stradale e grandi progetti ecco come saranno utilizzati lo scrive il Corriere questa mattina l'assessore delle Noci sul fondo di solidarietà abbiamo dice fornito risposte alle famiglie disagiate e poi ancora sotto altre notizie noi andiamo sulla pagina dello sport invece oggi quella che si occupa del Fano il calcio giocato Fano senza lode ma il 30 rimane fallito il 31esimo risultato utile ma il punteggio impietoso quello di domenica abbiamo perso 4-1 ormai lo sappiamo tutti lo sapete tutti ma il punteggio impietoso appunto scrive il giornale Massimiliano Barbadolo questa mattina non deve ingannare la scoppola finale è stata propiziata da un'insolita serie di episodi negativi e insomma non dobbiamo adesso preoccuparci più di tanto comunque poi domenica c'è la partita contro Iesi quindi andremo con una dovrebbe essere sulla carta ma poi sul calcio è difficile dirlo ma dovrebbe essere una partita abbastanza semplice ma lo diciamo sottovoce la pagina di Pesaro adesso del messaggero Ceriscioli solo 23 maxi comuni quindi i 5 Stelle da una parte dicono attenzione le fusioni di qua di là insomma cerchiamo di fonderci solo in un certo modo parliamo prima con i cittadini invece già Ceriscioli il presidente della regione ha in mente per tutta la regione che lui governa solo 23 maxi comuni quindi immaginiamo quanti saranno quelli che poi dovranno fondersi secondo questa rivoluzione che è in arrivo il modello che si sta realizzando a Pesaro sta per essere allargato in tutta la regione intanto la linea delle fusioni indicata dal segretario provinciale Gostoli crea malumori nel partito democratico poi sulla sanità Marche Nord l'azienda ospedali riuniti Marche Nord Maria Capalbo al posto di Ricci dunque è ufficiale Aldo Ricci lascia la direzione di Marche Nord diretto quasi certamente all'INRCA e Maria Capalbo arriva al suo posto ieri il presidente della regione e assessore della sanità Luca Ceriscioli ha comunicato la giunta il nome del nuovo vertice dell'azienda ospedaliera di Pesaro e quindi dunque l'ex direttrice dell'area vasta numero 1 Maria Capalbo diventa direttore dell'azienda ospedale riuniti Marche Nord il tesoretto il tesoretto di cui dicevamo poco fa il tesoretto per le scuole andranno appunto il tesoretto andranno per le scuole per il Palace per il Benelli un piano straordinario di manutenzione per le scuole a Pesaro i lavori al vecchio Palasport allo stadio Benelli con i 5 milioni che arriveranno grazie al blocco allo sblocco del patto di stabilità poi le previsioni del tempo dettagliate di fazzini sul messaggero ci indicano che tornerà il cattivo tempo l'abbiamo visto e allora il piano di Ceriscioli quindi viene rimesso viene inserito anche all'interno del giornale con una pagina pagina 36 il piano di Ceriscioli che rivoluziona le marche solo 23 maxi comuni il modello Pesaro come in Friuli è steso a tutta la regione unione dei servizi e se possibile fusioni norme che al momento sono comunque allo studio poi le altre pagine aiuti per le famiglie calano le richieste il comune erogherà il 30% di sovvenzioni in meno per dare una mano a chi non ce la fa con le bollette con gli affitti parliamo del comune di Pesaro e per l'assessore delle noci è un indicatore comunque della ripresa e dice quest'anno riusciremo a soddisfare tutte le domande l'autunno per fortuna non è caldo dal punto di vista almeno per ora sindacale perché vedete niente boom di licenziamenti segnali incoraggianti dalla commissione sulla mobilità ma intanto perdono il posto i 30 dipendenti di pentamobili dimezzate le aziende presenti alla fiera del mobile in Russia al job si presenta un corso per musicisti disoccupati subito invece il piano per spendere il tesoretto è quello che ha già annunciato appunto Matteo Ricci che annuncia anche il programma delle asfaltature sulla strada di Pesaro rotatore di Santa Colombo l'assessore annuncia la riapertura parziale poi sulle fusioni avanti tutta ma le linee del partito democratico crea tanti malumori tensione alla direzione provinciale alcuni sindaci democrat non gradiscono la relazione di Gostoli Scaramucci Scaramucci non la vota e sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio il caso è in regione finisce in regione oggi in commissione le audizioni di favorevoli e contrarie poi l'ultima pagina che prendiamo in esame è quella di Fano il mercato degli affitti si è svegliato dal coma i prezzi calati in media del 3,5% spingono la gente a cambiare casa le zone più richieste sono vicine al centro storico a Fano 2 San Cristoforo al Flaminio e lungo il litorale poi la morte di Gian Bruno Auspici è il messaggero che pubblica il lutto in casa della famiglia Auspici il cuore di Gian Bruno ha smesso di battere ieri pomeriggio intorno alle 17 nel reparto di medicina interna dell'ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverato da qualche tempo dopo un intervento chirurgico ad Ancona a causa di una malattia che non perdona aveva 73 anni ed era un padre della sinistra fanese e quindi le condoglianze alla famiglia e sempre sul quotidiano romano la gente del poderino vuole una nuova viabilità incontro sulla segnaletica ma si parlerà dei problemi e delle carenze della zona poi anche Fano ha un suo tesoretto Pesero ne ha 5 di milioni da spendere Fano ne ha 4 dallo sblocco del patto di stabilità e quindi vedremo poi nel dettaglio magari un po' meglio come il sindaco di Fano vorrà insieme alla giunta spendere questi investire questi soldi e spendere questi soldi per la città di Fano la rassegna stampa finisce qui grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale occhio alla notizia buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.